Il villorese, sottopassa il Seveso, quindi a quei tempi c'è stato un guasto al canale a Senago per cui l'acqua... Ma il ponte era questo? Questo, questo è il ponte, è crollato quella parte di là, la parte destra. Il villorese era vuoto perché c'era un guasto al canale a Senago per cui avevano bloccato l'acqua, altrimenti sarebbe stata una catastrofe in male. Una cosa incredibile, l'acqua che esce dal villorese più quella del Seveso avrebbe allagato Palazzo. Ripeto, quel giorno, bella giornata, la gente si era recata sul ponte a vedere. Quindi erano piazzati lì? Erano piazzati da quella parte. 20 persone sono cadute, 16 sono morte e 4 si sono salvate.